Se nel piatto al ristorante resta parte della pietanza o nella bottiglia avanza del vino, con una doggy bag il cliente può chiedere al ristoratore di portare tutto a casa senza buttare via niente. È una delle azioni previste dal progetto Urban Waste, finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020, di cui Regione Toscana è partner e di cui fa parte anche il Comune di Firenze. Ai ristoranti che hanno scelto di aderire all'iniziativa sono state consegnate le doggy bag destinate ai clienti con il nome del progetto. I locali sono ben riconoscibili grazie all'adesivo verde che si trova all'entrata e sulle vetrine. In questi ristoranti è possibile a fine consumazione chiedere di farsi consegnare la pietanza rimasta che in questo modo non viene gettata via ma ritirata, confezionata e sistemata nell'apposito sacchetto dal ristorante e che può essere così portata via una volta che si è finito e ci si è alzati da tavola. È importante l'adesione dei vari attori coinvolti, in particolare dei ristoratori, degli operatori turistici. Questa è una città che ha grandi picchi di turismo e quindi è necessario in qualche modo sensibilizzare, seppur nel breve spazio di una visita a Firenze, il turista che pur avendo sicuramente usi e costume diversi deve però immedesimarsi in maniera molto rapida. Per questo l'attenzione ovviamente con la doggy bag, che comunque è in uso anche in tanti paesi anglosassoni, piuttosto che la possibilità di poter ordinare le merze porzioni o poter anche conoscere le tradizioni di questo territorio attraverso i piatti della tradizione che sono per lo più improntati al recupero di materie che ovviamente in tempi in cui avevamo meno risorse e meno disponibilità non potevano andare disperse. Tutte le informazioni sull'iniziativa Urban Waste sono riportate sul materiale informativo in più lingue distribuito sui tavoli dei ristoranti aderenti in mezzo ai sapori e ai colori delle pietanze. Nel menu Urban Waste infatti ci sono anche le mezze porzioni che riducono gli sprechi di cibo e i piatti tipici della tradizione toscana che minimizzano la produzione dei rifiuti in cucina o impiegano i cosiddetti scarti come il pane raffermo. Obiettivo impedire che il cibo venga gettato via e dare così un contributo all'economia circolare a partire da una città come Firenze con grandi flussi di turisti e di studenti universitari. Accanto alla Doggy Bag il progetto Urban Waste prevede azioni per promuovere l'uso di acqua di rete, la raccolta differenziata e la donazione di cibi per fini sociali.